Siamo i giovani democratici di Orvieto e da ieri abbiamo deciso di occupare questa sede per tutto quello che sta succedendo in questi giorni riguardanti le elezioni del Presidente della Repubblica. Da parte mia quello che mi viene da dire è che c'è stata un po' di delusione per quello che c'è stato, per questo inciucio che si è voluto creare inizialmente che come abbiamo visto non ha portato assolutamente a nulla, anzi ha portato al nostro declino totale, al declino del Partito Democratico e niente, ora ci stiamo affidando a Napolitano e secondo me ingiustamente avremmo dovuto continuare con delle proposte e io quello che avrei fatto è andare su Rodotà, accettare la proposta che veniva dal Movimento 5 Stelle. Quello di Grillo è l'ennesimo tentativo di portare a sé gente andando a gridare in piazza come ha fatto durante la sua campagna elettorale. Quello che mi preoccupa non è tanto Grillo perché si è dimostrato quanto Grillo è bravo a metterci la faccia e poi a ritirarsi indietro come ha fatto in tutto questo tempo. Sono gli italiani che poi lo seguiranno, bisogna vedere se continueranno in questa cosa oppure no. Sinceramente come ne stavamo a parlare anche prima qui io un po' di paura ce l'ho perché non si può mai sapere quello che poi accadrà. Il vero vincitore non è Berlusconi e non credo che ci sia un vero e proprio vincitore in tutto questo perché nessuno si è dimostrato capace di fare qualcosa per il popolo italiano. Ho creduto in Bersani e comunque continuo a stimarlo come uomo politico e penso che lui qualcosa per l'Italia abbia cercato di farlo. Poi se gli altri non gli hanno mai dato una fiducia, non gli hanno mai dato un'approvazione, un qualcosa, credo che la colpa a questo punto sia di tutti. Quindi aspetteremo e soprattutto grazie ai giovani che si impegnano ancora per questa sinistra possiamo continuare a fare qualcosa. Passerà del tempo, questo ne sono sicura, passerà molto tempo. Occupai PD ad Orvieto perché c'è bisogno di dare un segnale, c'è bisogno di un segnale che parte innanzitutto dalla giovanile democratica quando il Partito Democratico ha chiaramente perso la direzione. La direzione di un partito che a livello europeo si colloca tra i partiti socialisti e democratici, un partito che ha una tradizione e una storia, un partito che viene da lontano e che deve andare lontano ma che non può farlo con le forze attuali, ma può farlo soltanto con noi, con Jacopo, con Giamila, con Benedetta, piuttosto che con Andrea, deve farlo con forze nuove e con una classe dirigente che deve finalmente far pace con la coscienza e ammettere i propri limiti e i propri sbagli perché quello che abbiamo visto in questi giorni durante l'elezione che ancora non ha un risultato del Presidente della Repubblica è il segnale che la nostra classe dirigente non è più capace, non è più in grado di esprimere, di captare, di sentire, di avere il polso di un paese che è cambiato e che non è più lo stesso, non è quello di 50 anni fa quando i giochi dei palazzi si potevano fare e nessuno diceva niente. In questo sicuramente, a questo va aggiunta una discussione che va oltre l'elettorato ma che interna il partito, una discussione che deve chiarire finalmente qual è la natura e la linea del Partito Democratico e qual è la nostra natura. Siamo un partito di centro-sinistra e dobbiamo esserlo perché tutti all'interno di quel progetto condividiamo una linea che non può essere semplicemente uno specchietto per le allodole o comunque un modo per raggiungere determinate posizioni nelle amministrazioni. Il partito non è un autobus sul quale si sale e dal quale si scende quando si arriva a destinazione. Il partito è uno strumento per cambiare la realtà, una realtà che è sempre più complicata è sempre più difficile da gestire. Per quanto mi riguarda penso che ci sia la necessità di un congresso il primo possibile, un congresso che sia anche un bagno di sangue ma positivo e propositivo, attraverso il quale il partito si possa liberare dalle ombre del passato che non ci fanno bene e questo ragionamento in Umbria è quanto mai più importante perché nella nostra regione governiamo e governiamo bene da 60 anni e dobbiamo continuare a farlo. Dobbiamo continuare a farlo togliendo la negligenza che la nostra classe dirigente ha avuto di nascondere che alcuni di noi avevano delle colpe e che non tutti stavano facendo politica ma stavano facendo attività privata e personale, arricchendosi sulle spalle di una popolazione che è sempre più povera e sempre più in crisi. In questo noi giovani democratici avremo sicuramente un ruolo fondamentale perché abbiamo deciso che questo è il nostro momento, senza slogan di rottamazione ma con idee che sono la base di un partito, che sono il collante che ci tiene uniti e senza nome e personalismi. Credo che è ormai chiaro che ci sia una strada diversa da prendere non tra le due animi fondanti del PD perché come è stato detto oggi anche da molti non è una questione di provenienze perché molte cose sono cambiate ma tra coloro che ritengono che un accordo con la destra berlusconiana e una convivenza nel governo sia possibile e coloro invece che ritengono che sia impossibile. Tengo anche a precisare per quanto riguarda me che non è una forma di estremismo assoluto perché in un qualunque paese civile europeo con una destra civile in un momento di crisi, in un momento dopo le elezioni di stallo è normale, può accadere per un anno o per un periodo di coabitare tra le maggiori forze anzi è un segno probabilmente di civiltà ma Berlusconi non è una destra civile, non è una destra europea, non è una destra moderna è un gruppo di potere intorno a una persona che ha dimostrato in questi anni non avere rispetto per nessuna figura repubblicana prima di tutti i giudici ma anche il Parlamento e così via dicendo per questo noi diciamo no. Secondo me è avvenuta ieri sulla votazione di Romano Prodi perché Romano Prodi poteva non essere eletto ma doveva prendere la quasi totalità dei voti del Partito Democratico nel momento in cui ci sono 101 franchi tiratori vuole dire che nei fatti già qualcosa è avvenuto credo che una scissione sarà una cosa che avverrà io ne parlavamo con altri, aspetto di vedere come perché io non credo che dobbiamo per l'ennesima volta chiedere al nostro popolo di cercare nuovi simboli o un nuovo altro il PD deve diventare un contenitore nuovo cioè chi non vuole stare in un partito di centro-sinistra dove coabitano queste due parole però che sia veramente di centro-sinistra può pure andarsene poi aprire porte e finestre a tutte quelle forze politiche che hanno voglia di creare una sinistra rinnovata e quindi sicuramente costruire questa nuova struttura ma credo che la scissione sia nei fatti i grillini possono essere un'opportunità in alcuni territori e in alcune realtà io non voglio diciamo così sempre scaricare la colpa su altri perché attualmente la colpa è solo esclusivamente nostra però anche far passare questo messaggio che 48.000 persone che hanno votato sul web che hanno dato risultati non dati perché hanno dato l'ordine Cabanelli, Strada e Rototà ma non si sa quanti ha preso la Cabanelli quanti Strada, quanti Rototà siano l'espressione del popolo italiano è un falso pensare che oggi tutti vogliono le elezioni dirette del Capo dello Stato è un altro falso così come pensare che con le elezioni dirette del Capo dello Stato sarebbe stato eletto per acclamazione Rototà cioè il rischio era di trovarsi magari un Berlusconi Presidente della Repubblica cioè c'è il rischio di ritenere che l'attivismo storico che storicamente riguarda il 20-25% della popolazione della popolazione italiana poi trascenda e riguardi tutto il popolo Grillo dà un po' questa illusione è un po' anche quello che succede su internet io ho molti amici su Facebook sostanzialmente chi è impegnato in politica destra, sinistra o comunque interessato in questi giorni pubblica l'Inc pro Rodotà, pro Prode o d'altro ma il rimanente 80% non pubblica niente pubblica Balotelli ridotta squalifica non c'è lavoro parla di altro non se ne occupa fate chi volete ma fate presto e dateci un governo vanno bene tutti basta che la mettete a mangiare sulle nostre spalle cioè non c'è tutto questo attivismo che si pensa quindi bisogna sempre diciamo così tenere un piede in rete e il resto del corpo però nella realtà grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti